Per la Camera, candidati uninominali della circoscrizione Liguria, Lega 19,91%, Forza Italia 12,65%, Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni 3,77%, Noi con l'Italia Udc 0,91%, Movimento 5 Stelle 30,12%, Partito Democratico 19,72%, Più Europa 3,38%, Italia e Europa insieme 0,61%, Civica Popolare Lorenzin 0,33%, Liberi uguali 4,42%, Potere al Popolo 1,37%, Casa Pound Italia 0,96%.